Buonasera, oggi buonasera, sto con la mia grande principessa Consiglia Capazzo Ciao Consigli, dicci qualcosa a poco Cosa ti vuoi dire papà? Niente, siccome Maira sta andata a vedere un motorino Liberty Così che voleva il... Quattro due, sei grande Quattro due, un po' ufficiati, questi grandi ridurre che ci vogliono I fucili in mano per andare a rubare Oggi mi ha fatto, vai un po' al caldo No, no, nulla, nulla Ah, c'è anche il nostro amalo Per chi non la conoscesse, oggi sta in buone bene Una ragazza che mi ha cresciuto Perché stonghi però Sì, perché quando sta Consiglia Questa signora qui c'è la madre Sta sempre bene Quando non c'è Consiglia Chiamano carabinieri, esercito, elicotteri Allora noi vi presentiamo Andiamo, facciamo la cucina Andiamo di là Allora, noi vi vogliamo presentare una donna che Lei mi ha dato la vita Mi ha dato la vita e mi ha dato a campare per 36 anni Fareci troppo, dicevano Ma quando muore, quando muore Quando muore, fa fritta Quando muore, quando muore, quando muore Mia madre non muore più No, la gente diceva Allora noi vi presento quella là che volevate morta Quella là che volevate Volevate nel tauto Che dicevate Io facevo una brutta fine Una nostra amica Una vostra amica Consiglia Santo Paolo Mia madre Vai Eccola qui Eccola qui Se in buone vene oggi Allora Così Ma tu non vuoi accanto Eccola qui Eccola qui Ti vedo più No, consiglia la mamma Mamma ti vedo più serena in questi giorni a te Come mai? Che ci sono io Come? Perché ci sono io Perché quando sei tu perché la nonna sta serena? Con il suo bico Perché si chiama Che cazzo che te l'ha dato Ah vede tu Mi vogliono un po' anche sapere Va bene Allora quando sta consiglia Consiglia Che non ha lucro Che usessero Che cazzo la pagina della casa Le ciavi? Sì E nonno dove stai nonno Tonino? O nonno dove restano fuori Eh ma perché? Ma io ti apriamo l'acocco a fianco Andate E questa è la nostra consiglia E ora prende l'acocco a fianco Chi ha detto? Chi ha detto qualcosa? Sì Qua? Ieri ha preso una cazzosa Una sola Si metteva Volevo che me la bevevo io Quell'altro Ha cattato ma? Ma l'hai cattato tu? Nonno mi ha comprato Il mio Ok Questi qua le nonna Una cosa che ha vinto Ma non c'è stato Allora Niente Lei è la più ricca di vita ricca Mia madre Eccola qui Eccomi Solo che mia madre Quando sta arrabbiata Dovete fuggire tutti i quadri Perché corre l'esercito Eccola qui E' ancora l'esercito E' una femmine casa Una femmine di famiglia Una femmina Due giorni che non si lavo Due giorni che non si lavo E' lì Ce l'ha Perché si è messa anche dentro Che disperazione Sì Come vai? Perché non si lavo? No Hai mai Una nuova Ficcina Alla sera Però non maggi per tanto Adesso come me Perché come te Perché puri Mi si fa se lavo la vedete come è diversa con i nipoti con me si arrabbia sempre ma non è perché io non me la voglio fare ma ti è messa per un'amore specialmente un bacio da solo un zoom ma non fu il zoom da solo la torta ok ragazzi questa è mia madre con i nipoti guarda a stare i nipoti tutt'appunto seguite a Luigi che faccio su youtube e twitter e messa scappi, filipa, instagram e whatsapp faccio da caccio nomai? solo per numeri? uno faccio da caccio nomi, faccio da caccio ammet faccio da caccio? ammet ciao Gio Gio belle